grande ragazzi marchino c'è mi ringrazio per le migliaia di visualizzazioni che avete fatto mi ringrazio cosa importante ragazzi di calcio mi raccomando i calci sono importantissimi soprattutto quelli che vanno allo stomaco ok carichiamo mi raccomando carichiamo l'anca l'anca ok quando siamo qua per colpire lo stomaco richiamo torniamo non andiamo là torniamo sempre ok è importantissimo mi raccomando importante sorta difesa personale yes